Bene, siamo giunti alla conclusione di questo dibattito e possiamo notare principalmente delle argomentazioni circolari da parte della loro squadra, perché principalmente portano delle argomentazioni che riguardano cose che noi non abbiamo detto, per esempio quella dell'autismo, come è nata questa voce dell'autismo, secondo me loro nemmeno lo sanno probabilmente per dirlo, perché così erano detto, tanto perché girava la voce. Però l'autismo come è nato? La correlazione fra vaccino e autismo? È nata semplicemente da un medico inglese che negli anni 90 vogliava le case farmaceutiche, aveva diciamo quest'asso per le case farmaceutiche e decise di pubblicare uno studio in cui faceva una, diciamo, in cui presentava dei dati sbagliati fra la correlazione appunto di bambini che nascono autistici e somministrazione di vaccino. Dopodiché il governo non si è minimamente occupato di smentire queste voci e se l'ha fatto il messaggio non è stato abbastanza chiaro, perché io personalmente che sono conto l'obbligo vaccinale con il capitano, voglio dire che l'autismo è un problema genetico e nel momento in cui si parla di vaccini non si va a parlare di una modificazione genetica alla persona in questione. Poi bisogna anche parlare di come la legge sia inefficace, visto che copre i bambini dall'inizio, o comunque i ragazzi, fino ai 16 anni e comunque se si paga la multa si può continuare ad andare a scuola se si ha un'età maggiore dei 6 anni e quindi l'obbligo decade e sembra quasi che lo Stato voglia guadagnare da questo, diciamo, da quest'obbligo. Poi bisogna anche notare come loro, ci avevano detto che noi abbiamo parlato di una sorta di guadagno, un guadagno di cui noi sinceramente non ne abbiamo parlato perché, certo, il vaccino è un servizio, loro anche hanno detto che si limita la comunità, però nel momento in cui io devo somministrare un vaccino, già di principio sto limitando la mia libertà e quindi è una contraddizione. E poi vorrei aspettire di come loro parlano tra cura e vaccino. Bene, allora la cura è un prodotto medico, dette in parole semplici, che toglie definitivamente la malattia. Il vaccino, l'unico scopo è quello di creare una sorta di database umano in cui si inserisce il tipo di ceppo o il tipo di virus che può infettare l'essere umano, perché il vaccino altro non è che un virus inerme. Quindi nel momento in cui si dice cura e vaccino, il vaccino è solo una prevenzione e anche dire che il vaccino è un servizio, non è veramente così. Perché se noi prendiamo per esempio il caso del tetano, il tetano rientra nei vaccini obbligatori, però colpisce solo il singolo, non è contagioso e quindi se io ho una reazione avversa per il tetano, io ho una reazione avversa ed è pericoloso. Vorrei concludere il mio discorso con una frase dello scienziato Tesla che disse un atto anticonformista in una società piena di conformisti è un segno di intelligenza. Grazie. 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 Grazie.